Siamo qui con Tognassi per commentare questa partita, una partita sicuramente dominata dal Crema ma che si è conclusa sullo punteggio di 2-2, un Crema sfortunato anche. Sì, credo che la sfortuna non è che c'entri tanto, è sicuramente un pareggio con rammarico, veniamo via con un po' di incavolatura da questa partita perché la stavamo portando a casa e un po' per demerito nostro in fase offensiva che non siamo stati abbastanza cinici e un po' per un altro demerito nostro in fase difensiva che su due calci di punizione da metà campo non siamo riusciti ad arginare le loro offensive sulla seconda palla insomma ci siamo messi in questa situazione di pareggio che lascia un po' di rammarico in bocca perché era una grossa occasione per noi oggi. Quindi come affrontare le prossime partite facendo tesoro di quanto è successo oggi qua a Barzanò? Sicuramente, martedì si riparte, si riparte lavorando come stiamo facendo adesso, non è che un pareggio su questo campo che è comunque un campo difficile non dimentichiamo che loro nelle ultime partite avevano una striscia molto positiva e quindi noi andiamo avanti consapevoli dei nostri mezzi e sicuramente facciamo tesoro degli errori che abbiamo fatto oggi che non si devono più ripetere per una squadra come la nostra. Grazie Emilia Tognassi